Ok, ho capito la situazione. Il dispositivo di autenticazione che avete provato appartiene all'aereo caduto. Capo, saputo niente di Jill e Parker? No, non ancora. L'indagine li ha portati in mare aperto, ma abbiamo perso le tracce della nave. Ah, poco incoraggiante. Spero stiano bene. Già, lo spero anch'io. Abbiamo perso i contatti da troppo tempo. Comincio a preoccuparmi. Trovate un terminale nel luogo d'impatto e vedete se scoprite qualcosa sui piani della Veltro. L'aereo è caduto poco più avanti. Andiamo. Non sarebbe grandioso se scoprissimo come risolvere l'intera missione. Stavolta ci toccherà sparare. C'è luce per essere notte. È per questo che si chiama Sole di Mezzanotte. Sì, si chiama Sole di Mezzanotte. Tutti due... Delle armi biologiche! Ma sapevo che sarebbe successo. No, perché sono lupi e le teste non si aprono. Ma porca! probabilmente mi conviene tenerli i proiettili del fucile d'assalto intanto vanno a rallentatore sti cosi ok magari non sempre no che vai dammi una mano questo se ne va scannerizza scannerizza yes devo essere velocissimo a scannerizzare cioè se ne è andato wow che bel compagno di squadra devo usare per forza il mitragliatore contavo sulla potenza di fuoco di due persone siamo arrivati avanti grinder che stai facendo ma che sei pezzo di merda bombaman ehi calmati che ti prende qualcosa non so qualcosa mi ha colpito cosa guarda mi hanno colpito deve essere l'uomo invisibile o roba del genere sul serio è un hunter oddio non so cosa è successo nel video della sicurezza è stato in fantasma è un nuovo tipo di hunter grazie per la spiegazione ho già detto che è un gran casino scusi eh a caso tiri una granata nel dubbio le granate funzionano sempre ce n'era un altro però erano in tre muori che casino muori scusi eh devo ricaricare ahia ce n'era uno dietro pure proprio un gran casino è già run cambio shotgun può essere anche invisibile ma una shotgun fa sempre male smettila di saltare in giro questi sono molto più resistenti di quelli che abbiamo combattuto nell'edificio l'anno scorso non dovrebbero essere accennati raggiungiamo il terminale sull'aereo prima che arrivino altri mostri va bene cos'è sta roba chiunque l'abbia fatto non era umano ok sono un po' corto di munizioni qui c'è un coso da leggere un oggetto sulla gestione del nuovo prototipo in questa missione si ha introdotto un nuovo prototipo tutti i partecipanti sono invitati a comportarsi con estrema claudela nell'analeggiare il prototipo in caso di emergenza seguire le direttive una volta attivate le abilità del prototipo non so bla 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 peppo rippo paro chi è il prototipo speciale stavo dicendo c'è ci sono degli oggetti qua in giro ma non me li segnalano munizioni per mitragliatrice munizioni per pistole c'è un altro oggetto qua lì basta non ce ne sono più wapah wapah munizioni per pistola erba cartuccio per fucile il fucile è carico si mitragliatore è carico andiamo perché tra poco ci toccherà combattere contro il prototipo speciale non penso che sarà facile ah devo ah il computer ok sembrerebbe tutto a posto ehi quint adesso tocca a te trovo il registro delle chiamate devo provare in un altro modo tranquillo sei bravo con i computer con le donne invece grinder che è succedo contattiamo il quartier generale subito qui QG parla O'Brien cosa? è qui Jackass ho le coordinate della nave le sto inviando ben fatto questa è musica per le mie orecchie bel colpo trovare le coordinate beh avrei potuto calcolare il tempo sull'ultima rotta conosciuta ma sarebbe stata lunga per questo ho detto bel colpo non hai capito io non ho calcolato niente non siamo gli unici a cercare quella nave aspetta di che stai parlando? intendi che la veltro è uscita dal suo buco per venire a cercare la sua nave esattamente ma non so se le informazioni su cui ho messo le mani siano vere ma era sopra il tipo mascherato non sappiamo con chi abbiamo a che fare alla nave esatto ed è proprio quello il pezzo del puzzle che ci serve ma che cazzo roi non ci sto capendo più niente sono Chris ho ricevuto le coordinate non è lontano saremo lì in un attimo O'Brien ci andiamo subito eh sì non è un elicottero è un getto questo perché il capitolo con quei tizi è completamente inutile? episodio 5 segreti svelati fine yes precisione 80% spero colpa del shotgun risultato finale S eee alleluia risultato finale